Musica 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 ...la ridifica in vista della conclusione e del proprio Moscorna ...12.44 ...12 ... La mondiale eccoci, quando per domenico posso arrivare i compagni che vanno a chiudere in questo istante in 13.44. La frontura, gli aperti della sala al prossimo, la ricordiamo con Vincenzo Nibali, Valerio Agnoli, Eros Capecchi, Apo Fulsa, il Tanel Kanger, Bacchiar, Cosa Taier, Davide Malacarne e Michele Scarponi.